Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come risolvere il problema del cavo Ethernet al PC ovviamente come puoi vedere il nostro modem che ha 4 porte LAN più le altre 2 porte a fianco e come puoi vedere questa porta come questa sta dietro al nostro PC ovviamente chi ha un portatile sta di lato e invece per quelli che hanno un PC fisso sta proprio dietro al PC dove sta proprio la porta per la scheda madre ovviamente si vede, sicuramente si vede perché lampeggia anche e quindi va connesso là però ovviamente se tu connetti il cavo LAN al modem e lo connetti al PC non funziona io ovviamente ho riscontrato questo problema perché non ho installato un driver adatto per la mia scheda madre ok? quindi in questo caso va installato un driver per la scheda madre quindi se non sai che tipo di scheda madre hai su PC tu basta che vai su Sysystem su Sysystem Information come puoi vedere prodotto scheda di base questa è la mia scheda madre B450 Gaming Plus Max ovviamente io adesso andrò sul mio sito andrò sul supporto dei driver e andrò a scaricare il driver per il mio cavo Ethernet ovviamente io non posso mettere in descrizione più di centinaia di link per ogni scheda madre quindi in questo caso ti ho consigliato Sysystem Information per vedere che tipo di scheda madre hai sul tuo PC quindi dentro al PC che scheda madre hai quindi sulla mia scheda madre B450 Gaming Plus tu fai proprio come me cerca la tua scheda madre e vai sul suo sito ed eccola qua vado poi su supporto ovviamente va su supporto perché sul supporto c'è tutto i driver e tutto quello che ti serve driver e download e driver ed eccoli qua seleziona il tuo sistema operativo io per esempio ho Windows 11 a 64 bit per vedere che tipo di sistema operativo hai sul PC tu basta che vai tasto destro sopra su Windows e vai sul sistema e da lì in poi puoi vedere che tipo di sistema hai quindi ed eccolo qua qui abbiamo i Sysystem Chipset Drivers Onboard VGI Drivers e poi abbiamo quello dell'audio e poi LAN Drivers eccolo qua vado su LAN Realtek PCI Ethernet Driver fatto data di rilascio ultima versione che hanno rilasciato è del 30 di dicembre 2022 quindi io vado a scaricare questo faccio testo salvo ok una volta scaricato ed eccolo qua come pacchetto RAR va estratto con WinRAR quindi di scaricare anche il programma WinRAR e lo estrai una volta estratto entro nella sua cartella ed eccolo qua install PCI Windows 11 e lo vado a installare preparazione dell'installazione e installerà così il pacchetto per il mio per la mia scheda madre il cavo LAN e così poi andrà a funzionare facciamo ripristina tutte le modifiche installerà così un nuovo aggiornamento e abbiamo fatto come puoi vedere io sto usando il cavo LAN vedi nuova versione del driver ok manutenzione completata facciamo fine e quello che ti consiglio di fare è di riavviare il tuo sistema operativo una volta fatto puoi connettere normalmente il tuo cavo LAN al pc e al modem quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like se hai problemi commenta e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao